Ci siamo assentati per qualche ora per passarla in un agriturismo di un amico, io, mia madre e i miei due figli. Abbiamo trovato praticamente la casa devastata. E' arrabbiata e sconvolta Elenia Cori, residente a Mondavio dal 2017, vittima di un furto subito il giorno di Pasqua nella propria abitazione lungo la strada provinciale 49. I malviventi hanno fatto irruzione forzando una finestra sul retro, hanno messo a soquadro le stanze e hanno rubato oggetti preziosi. E' da giorni che sicuramente eravamo tenuti diciamo d'occhio e questo diciamo me lo fa pensare l'atteggiamento del mio piccolo cane alla quale purtroppo ho dato poco peso e questo quando si è rientrati lo scenario è stato veramente devastante. Io ancora sento a credere che ho vissuto tutto questo, che questo sia realtà, però purtroppo mi hanno ripulito di tutto, spogliato di tutto e intendo di tutto l'oro che avevo in casa, sia mio ma soprattutto quello di mia mamma, l'oro di una vita, regali, ricordi dei genitori, del padre, di mio padre che è morto, che non c'è più, quindi ci hanno portato via proprio gli affetti, quelle cose che non ti vai a ricomprare perché non è la stessa cosa. Io ho paura, ho paura di stare in casa, ho un disagio profondo, abbiamo paura io e i miei figli da quel giorno di Pasqua che non dormo più, che non chiudo occhio, ovviamente abbiamo chiamato subito i carabinieri che sono intervenuti, però purtroppo ad oggi capisci che non c'è una tutela, nel senso io faccio denuncia, i carabinieri arrivano ma la cosa lì finisce, molto probabilmente lì la cosa finirà. I malviventi non si troveranno mai, anche perché sappiamo con chi abbiamo a che fare, con persone che molto probabilmente sono anche già dall'altra parte del confine, che non sono più qua perché non sono persone di qua. La proprietà privata va tutelata, dobbiamo essere tutelati e queste cose devono accadere il meno possibile. Durante le festività i ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, hanno messo a segno furti anche in altri comuni della provincia pesarese. Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale di Civici Marche, Giacomo Rossi. A seguito di questi numerosi furti avvenuti nei comuni di Mondavi, di Terre Roveresche nel periodo pasquale, mi sono subito interessato ed ho inviato una lettera alla prefettura per chiedere se e quali provvedimenti metteranno in atto per far fronte a questa grave situazione. Infatti come rappresentanti politici siamo spesso interessati dai cittadini che hanno paura di queste situazioni, chiedono maggiori controlli. Io ho anche invitato i cittadini a far rete, a scambiarsi le informazioni sui social per poter meglio controllare il territorio così come avviene in altri posti della nostra provincia e della nostra regione.